La nuova Clio ha il bagagliaio più spazioso della sua categoria. La sua architettura è stata ottimizzata. Lo spazio all'interno dell'auto aumenta quindi a una capacità di 391 litri. Il bagagliaio presenta un'apertura più ampia per facilitare le operazioni quotidiane di carico e scarico. Una volta inclinati i sedili posteriori potete trasportare pacchi ingombranti di 1,46 metri di lunghezza massima. Altro punto interessante da notare a proposito del bagagliaio è il doppio pianale che permette di organizzare e disporre facilmente gli oggetti senza occupare l'intero bagagliaio. Renò Paglini. Ci trovi a Castellanza, Gallarate, Azzate, Varese e su renopaglini.it Grazie a tutti.